Ciao, sono Yuri di Sporttime, sono qui per presentarvi la nuova linea di Mystic, il marchio ormai lo conoscete, è uno dei marchi più famosi al mondo. Continuiamo anche quest'anno con un trapezio di successo come il Warrior, nella sua terza edizione, che è migliorato dal punto di vista del materiale della termoformatura e dal punto di vista dei bordi. Quest'anno avremo dei bordi molto più soffici per maggior comfort e a secondare gli spostamenti del bacino e le manovre. Questa è la versione lente, anche caratterizzata dai colori vivaci, verde acido, con degli inserti cromati e il leash dell'Hendelpass con girante, tutto incorporato. Continua sempre anche la colta collezione di accessori neoprene e mute, con una delle novità che sono le mute gamba corta e manica lunga per la mezza stagione, sempre caratterizzate da il famoso logo Mystic, stampato l'over su tutta la spalla, sempre materiali al top e le cuciture piatte, cieche e incollate per avere la massima tenuta stagna anche nei periodi invernali. Per quanto riguarda le protezioni che hanno avuto molto successo quest'anno, continuiamo con il Force Impact Jacket con la tecnologia di Trio, la tecnologia di Trio è una mousse che ha la capacità di irrigidirsi contro un impatto rigido, al suo stato naturale è morbida, quando subisce un forte urto diventa una protezione rigida. Il Force è disponibile in varie versioni, qui abbiamo quella Wake che è più lunga rispetto a quella da kite, può essere utilizzata anche questa col trapezio e esiste nella colorazione bianca, nera e neoprene e lucido. Naturalmente, la collezione Mystic non si ferma qua perché abbiamo comunque, come l'anno scorso, riproponiamo l'intera linea di abbigliamento caratterizzata da giubbotti, maglie, t-shirt, pantaloncini e borsche. No, non. Ok. Allora, ok. Allora, ok. Grazie a tutti.